L'olio DOP di Cartoceto ha conquistato i tanti visitatori che hanno affollato il borgo medioevale per Cartoceto DOP il festival, la 41esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva che ha visto finalmente la piazza principale l'è recuperata dopo il crollo delle mura avvenuto per il maltempo del 2012. Un percorso articolato tra enogastronomie d'eccellenza, arte, storie e tradizioni ma anche di grandi appuntamenti musicali al Teatro del Triunfo con Fabio Concato e Greta Panettieri che hanno generato in entrambe le serate il sold out richiamando tantissimi ascoltatori anche da fuori regione. Diversi anche gli espositori del settore olivicolo che hanno esposto il pregiato oro verde delle Marche e invitato così a degustare le tante famiglie e i turisti intervenuti l'ottima qualità di questa annata. Ma io direi un grandissimo successo, questa seconda domenica fortunatamente il tempo c'è stato anche clemente quindi davvero davvero migliaia di persone presenti qua a Cartoceto disseminate tra piazza dei produttori, installazioni ed esposizioni artistiche, spettacoli al Teatro del Triunfo e tante altre di quelle che sono le iniziative che hanno caratterizzato Cartoceto DOP il Festival edizione 2017. Ed è grazie al prodotto di qualità che l'olio DOP di Cartoceto è entrato a far parte delle eccellenze delle Marche. Un traguardo molto importante perché entrando in questo consorzio riusciamo a promuovere i prodotti delle Marche, aiutare i produttori a promuovere i loro prodotti. È importante mettere insieme tutte quante le eccellenze delle Marche per far conoscere questo territorio ma anche per dare valore ai nostri prodotti.